Nella decima giornata del campionato di eccellenza, grande cornice di pubblico per il primo derby fra Trestina ed Umberti de Tiberis, finito in parità al termine di una partita molto bella e ricca di emozioni. Andiamo dunque a vedere le immagini con le riprese di Sauro Giacchè e il montaggio del Video Studio 2000. Entrambe le squadre venivano da un pareggio, il Trestina ha infatti pareggiato nello scorso turno con il Sanzisto fuori casa, mentre l'Umberti de Tiberis ha ottenuto un pareggio con l'Ortana in casa. Le due squadre sono distanziate in classifica da un solo punto, il Trestina è a 13 punti mentre l'Umberti de Tiberis è a 12. Passiamo quindi alle immagini. Inizia subito in attacco il Trestina con un tiro di Romani rimpallato dalla difesa avversaria. Subito dopo da segnalare il tiro di Staccini che trova pronto Traversini a ribattere. Al ventinovesimo colpo di testa di Guazzolini ribattuto da Ceccagnoli. Un minuto dopo ancora una parata di Traversini sul tiro di Cerbella. Ficcante contropiede della Tiberis con Corsici al cross, tiro di Gutemà, tutto da dimenticare. Al quarantatresimo tiro di Cris Poltoni che sfiora il palo destro del portiere e con questa azione si chiude il primo tempo. Inizia subito la ripresa con l'Umberti de Tiberis in attacco e al secondo minuto una dormita generale del Trestina fa sì che Gutemà metta il pallone in rete. Vediamo l'esultanza dei giocatori. Riparte subito in attacco il Trestina, svarione della difesa, bella uscita di Ceccagnoli sui piedi di Antonelli. Al quattordicesimo torre di Procelli per Cris Poltoni ribattuto il primo tiro e sul secondo tiro, sempre di Cris Poltoni, Mazzotti è bravo a respingere. In seguito da registrare l'espulsione di Ciampelli per proteste. Sul cross di Romani Cris Poltoni, stretto fra due avversari, guadagna con molta caparbietà un calcio di rigore. Cris Poltoni va quindi sul dischetto, si accinge a battere e spiazza il portiere, il portiere da una parte e palla dall'altra. Vediamo l'esultanza di Cris Poltoni, abbracciato dai compagni. Poco prima della fine doppia espulsione per reciproche scorrettezze. L'arbitro, dopo essersi consultato con il guardaline, decide di mandare fuori dal campo entrambi i giocatori. Nei minuti di recupero tiro al volo di Procelli che esce fuori di poco. Con questa azione termina la partita, risultato finale 1-1.